media camera show ogni giovedì e domenica alle ore 20 su rtt teletebbe canale 115 del digitale terrestre ogni martedì alle ore 19 e mercoledì alle ore 18 su media sud canale 630 del digitale terrestre media candid camera show trascorri con noi 30 minuti di allegria e divertimento ti aspettiamo